Con il sisma del 20 e 29 maggio, Rovereto sulla Secchia, frazione di circa 4.000 abitanti del comune di Novi Modenese, ha perso sia la palestra a sita all'interno delle scuole, sia quella della polisportiva. Il Trentino, e in particolare le sue penne nere, stringono un'amicizia con la comunità di Rovereto sin dal 1970, quando, su richiesta della quarta classe della scuola elementare Cesare Battisti, donarono un pennone su cui sventolava un tricolore. Come 43 anni fa, le penne nere trentine sono corse in loro aiuto e assieme è nato il progetto di ricostruzione della Casa dello Sport, una palestra con annesso un centro servizi, progetto di cui l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Trento, si è fatta carico dell'aspetto finanziario, progettuale e realizzativo. Per raccogliere fondi da destinare al progetto, le penne nere della zona Valsugana e del Tesino hanno promosso una maxi lotteria a premi, la cui estrazione si terrà sabato 23 marzo 2013. I biglietti si potranno acquistare presso i punti vendita che espongono il nostro slogan. Acquistando i biglietti, potrai partecipare all'estrazione di ricchi premi e contribuire a ridare un futuro a questa comunità. Nel periodo natalizio promuoveranno inoltre la vendita di un pacco della solidarietà al costo di 10 euro. Alla comunità di Valle e a tutti gli sponsor che hanno voluto sostenere questa iniziativa, rivolgiamo il nostro più cordiale e sincero grazie.